I finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno scoperto un forno abusivo nel pieno centro di Acate. Durante l'ispezione fiscale delle fiamme gialle, il titolare non è stato in grado di esibire l'idonea documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività economica. Inoltre è stata contestata la mancata installazione del registratore di cassa, nonché di tutte le autorizzazioni e le certificazioni sanitarie richieste per la panificazione. Da ulteriori accertamenti è emerso anche che il soggetto era addirittura privo di partita IVA e sconosciuto al fisco. Tra l'altro l'intervento sul posto dei funzionari dell'ASP7 di Ragusa ha permesso di appurare che il pane era prodotto in condizioni igienico-sanitarie non conformi alla normativa. Pertanto si è proceduto al sequestro del locale di tutte le attrezzature utilizzate per la produzione abusiva, al fine di impedire il reiterarsi della condotta illecita, ma soprattutto per la salvaguardia della salute pubblica. Grazie a tutti!